eccoci l'appuntamento di mercoledì i consigli di lam sull'igit tv alle ore 18 come vedete non solo nel mio appartamento ma sono nel salone di cristiano e franco russo in via frattina a scoprire i prodotti di tindora seguitemi eccoci nel salone di franco e cristiano russo in via frattina a presentare i prodotti tindora con fiorella perfetto questo è il nostro zafferano che cosa abbiamo pensato tindora ha pensato a creare un prodotto biotecnologico a base di zafferano dop dell'aquila lo zafferano dop dell'aquila è un antiossidante un rivitalizzante per eccellenza e la proprietà soprattutto dello zafferano è anche un antinfiammatorio se pensiamo che la nostra le nostre creme sono fatte con i pistilli dello zafferano non con il petalo il nome tindora ve lo faccio rivedere sì perfetto all'interno ed è che c'è lo zafferano ci sono i pistilli che vanno messi dentro la crema quindi le vostre creme i nostri prodotti sono tutti fatti con la base di zafferano non solo lo zafferano perché lo zafferano oltre ad essere quello che ti ho detto quindi un rivitalizzante un antiossidante è un veicolatore per eccellenza i prodotti sono tantissimi i prodotti è una linea di solo la linea che parte dalla detergenza all'idratazione parliamo di detergenza quindi abbiamo due prodotti e parliamo del latte detergente eccolo qua allora il latte detergente è diciamo il primo prodotto che ogni donna dovrebbe usare di sera per struccare il viso per detergere la pelle va messo in un tamponcino con un tamponcino umido come facciamo con qualsiasi altro latte detergente e poi c'è la lozione la lozione tonica il nostro latte tonico al punto di forza del latte tonico sono che oltre lo zafferano e altri prodotti hanno una bellissima e proprietà perché c'è l'acido ialluronico dei creme in questo caso troviamo anche nel latte detergente nella lozione sembra già che nella pulizia già la pelle venga idratata questo è un bene dopo di dopo la detenzione noi consigliamo il peeling però fa da fare due volte a settimana ok quindi dopo la detenzione inseriamo il peeling che lo lasciamo dai cinque agli otto minuti sul viso quindi va un pochino di feeling si non proviamo lo può mettere eccolo qua lo lascio in questo modo lo lascio sette otto minuti su tutto il viso senza idratare assaggiarlo tanto perfetto quindi deve essere un po cremoso lo dovete lasciare sul viso perfetto e dopo va risciacquato anche un odore quindi è anche perfetto sì perché la detenzione è senza profumo anche il controllo questo è una buona cosa io per esempio non amo i prodotti con fragranze infatti perché non mi dà fastidio il profumo certo in questo caso è un bene bene quindi dopo cosa andiamo ad applicare parliamo di notte in questo caso che apprezziamo noi consigliamo il cero il cero come base allora prima il cero e poi la crema da notte dunque il cero è un liftante quindi quando si mette il cero possiamo provarlo come no diciamo che è il punto di forza di tindora quindi ne va pochissimo il color miele è il color zafferano giusto il color zafferano e ne basta unissimo perché credo che comunque bravissima i nostri prodotti in questo cero dove va applicato tutto il viso e collo viso e collo va picchiettato lo lasciamo così come facciamo di solito quindi tutto intorno al contorno occhi poi lo massaggiate bravissima su tutto il viso io adesso non lo sto applicando perché sono truccata però perfetto come così sei stata bravissima lo lasciamo qualche minuto e dopo la sera andiamo a applicare la crema da notte se è di mattina applichiamo quindi se lo applicate sia di giorno che di notte giorno e notte noi consigliamo poi se vogliono applicarla una volta il risultato bello è quello se va applicato una volta scegliere comunque la notte giusto scegliere la notte quindi mettere la crema da notte e il contorno occhi intorno alla zona degli occhi lo facciamo ecco poi questo che trovare al contorno occhi è sempre un pochissimo prodotto vedi il prodotto ne va pochissimo ah questo è più diciamo un bianco no no è sempre forse che ti ha parso vedi sì no con frutto al siero che era bello più intenso il colore ma è proprio diverso la testura no questa è una crema quella era tipo un gel anche questa eh sì quello è tipo giallo certo 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 benissimo sempre il contorno occhi sempre picchiettandolo come hai fatto vedere per il siero lo picchiettiamo intorno all'occhio e poi applichiamo su tutto il viso la crema dell'occhio quindi siero quindi detezione siero picchiettando 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 e contorno occhi e crema notte sul resto del viso ah ecco invece se vogliamo alternare i prodotti anche per la mattina questi tre prodotti anziché mettere siero mettere contorno occhi e crema solo crema d'aggiorno solo crema d'aggiorno poi la nostra crema è un anti-pollution ok no no eccola crema d'aggiorno sono tantissimi prodotti arriviamo fino a 8 prodotti sono 8 perché abbiamo inserito la crema uovo quindi oggi l'uomo ci piace ci tiene ancora più e quali sono le proprietà per la crema uomo? allora la crema uomo è a base gel a base acquosa non ha il nutrimento perché la pelle dell'uomo è diversa dalla pelle della donna quindi è diversa anche la crema è più leggera è ottima anche la mattina è ottima anche dopo la rassatura ottima anche perché non zafferano l'antinfiammatorio quindi è ottima è bravissima Fiorella vorrei perdere qualche minuto in più per la crema d'aggiorno perché sono molto curiosa di sapere le proprietà che cosa ci racconti della crema a giorno? allora abbiamo pensato di inserire nella crema a giorno l'antipollution che cosa significa l'antipollution? che protegge dallo smog atmosferico dai raggi blu del computer se una donna fuma dal fumo della sigaretta protegge un pochino dal fumo della sigaretta quindi ma questo è un bene è un bene cioè protegge praticamente è uno in più della crema a giorno idratante semplice ah ecco ve la faccio di vedere vi faccio vedere anche la scatola perché è molto bella molto di design semplice bianca i prodotti in quale dimensione sono in vendita? allora abbiamo allora innanzitutto i nostri prodotti si è notato sono negli airless non sono in un packaging normale ma così evitano di toccare le donne di toccare il prodotto con la mano quindi devi andare dentro ah sì certo innanziché nel barattolino bravissima sono nel dispenser rimane come se fosse sottovuoto il prodotto quindi non è mai contaminato non è mai contaminato non si ossida perché l'aria non entra dentro perché è sottovuoto e un'altra caratteristica del nostro prodotto è che il pack è opaco perché come hai visto anche nello zafferano stesso nella scatolina dello zafferano c'è scritto di tenerla lontano dai raggi solari facciamolo vedere facciamolo vedere facciamolo vedere tutto quindi è fotosensibile lo zafferano quindi deve essere chiuso in un prodotto in un packaging opaco ok un'altra cosa che abbiamo dimenticato di dire che i nostri prodotti sono attivatori dell'abbronzatura in questo periodo perché sono molto molto concentrati cioè il nostro zafferano da anche il colore? dal colore arancione molto spesso il colore arancione la carota allora il prodotto nostro lo zafferano è ricchissimo di carotenoidi il nostro zafferano quindi aiuta l'abbronzatura non è che abbronza di colore da un effetto dorato infatti si chiama Tindora perché Cleopatra perché Cleopatra usava lo zafferano per indorare la sua pelle ecco ecco perché abbiamo pensato al nome Tindora che bello bellissimo dove possiamo trovare questi prodotti? allora i nostri prodotti per ora li troviamo sull'e-commerce quindi sul vostro sito? sul nostro sito e com'è il link del sito? www.tindoracosmetics.com quindi è anche facile semplice da ricordare quindi potete fare tranquillamente l'acquisto sull'e-commerce del sito e poi se volete qualsiasi altra informazione potete scrivere alla mail che trovate sul sito e farvi consigliare il prodotto più adatto a voi per ora è tutto ci vediamo alla prossima con i consigli di Lamma il mercoledì alle ore 18 sull'e-gtv e ricordate di seguirmi su Facebook e su Instagram il mio sito www.looklikemodel.it alla prossima ciao